Netsha, sempre Amy Wakeman di K1, entra a Lando Rosso un giornalista di Sky, Paolo Frante! Accordiamo il suo sfidante, lui è uno studente, entra a Lando Rosso Simone De Angeli! Lando Rosso! Lando Rosso! Alla nationalità! Paolo, chiudi le braccia, Paolo! Un caffè, Paolo, un caffè! Un caffè! In aglio! Stop! Paolo, Paolo, di consigli. Un caffè, Paolo, di consigli. Bravo, va, va! Bravo! Un caffè, Paolo, di consigli. Bravo! Guarda le vitte, i porti, i viti! Vieni, 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 vieni! Sei, così, vai! Guarda la roba, guarda la roba! Guarda il bello, in occhio, in occhio! Bravo! Stop! Guarda la roba! Guarda la roba! Guarda la roba! E' il tiracchio, e' il tiracchio. 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 E' il tiracchio.